Presidente, al Micam le avevo chiesto se c'erano delle parole in corso, quale fosse il primo programma, non c'è nessuno del Corriere, perché vorrei capire anch'io quando è, dov'è, chi l'ha organizzato, se c'è qualcuno del Corriere me lo dica, no, ma non credo che ci sia proprio, anche perché le persone che dovrebbero essere presenti lavorano tutte a Roma in questo periodo, per cui Sant'Anchefa fa ministro a Roma, Cecchetti fa parlamentare a Roma, credo quindi che non... Ma quando lo vedrà cosa vi dirà ai partiti? Quale sarà la frase che poi sortirà? Sono contento di essere arrivato uno. Si parla di nomine, di conferme, di un toloso? Non lo so, ripeto, non abbiamo ancora iniziato a parlare di niente, quindi siamo rimasti a quello che ho detto prima delle elezioni, che ho ribadito subito dopo le elezioni e che conferma adesso. Se ci sarà un incontro a breve, io penso di sì, penso che si potrà vedere di organizzarlo in questo prossimo fine settimana, quando normalmente i parlamentari sono qui a casa, ne parleremo e poi vi saprò dire qual è stato l'esito. Presidente, che tempistica è una delle tante? È una delle ipotesi, sicuramente. Presidente, che tempistica si è dato per la formazione della squadra? Ma ho detto, entro metà marzo sicuramente. Presidente, che tempistica si è stato l'esito.